Buongiorno a tutti ragazzi, buon lunedì, buon inizio di settimana, oggi vigilia della partita più importante, determinante di questo inizio stagione, possiamo definirla così, decisiva stavolta possiamo dirlo, dato che all'andata il mister aveva detto non è decisiva ma è importante, oggi invece dico che è importante e decisiva, e quindi alle 18.30 parlerà Massimiliano Allegri, vedremo quali saranno le sue indicazioni, vedremo che cosa dirà, commenteremo le sue parole qui su YouTube, quindi in tarda serata, ma per il momento mi sembrava opportuno fare una piccola, piccolissima discussione inerente al modulo che in questo momento stiamo utilizzando, e quindi questo 3-5-2 con il quale abbiamo ritrovato abbastanza compattezza, devo dire la verità, sembra essere una Juventus che si trova abbastanza su agio con questo nuovo sistema e vediamo se potrà essere l'abito definitivo per questa Juventus, però secondo me si aprono un po' di discussioni sotto questo punto di vista, soprattutto con i rientri di Pogba, Chiesa e anche quello di Di Maria previsto, poi immagino come vi dicevo ieri secondo me, intorno a gennaio, quindi con l'anno nuovo post mondiale, perché non credo che né Di Maria né Paredes vorranno cercare di forzare un recupero, proprio per non rischiare di perdere la convocazione, quindi la spedizione mondiale per Qatar 2022. Ragazzi, come al solito qui sotto in descrizione c'è il link per scaricare gratuitamente il numero di ES all'interno dei vostri smartphone, fatalo assolutamente perché ci sono tutti i miei contenuti esclusivi, articoli, video, post partita, ogni tanto, uno al mese, l'altro giorno c'è stato quello con l'Empoli, non so se ve lo siete visti, nel caso vi lascio comunque il link, potete andarmelo a ricercare insieme agli articoli, uno appunto parlava dei recuperi di Pogba e Chiesa. E allora proprio qua vorrei tornare, dato che comunque anche Davom sta parlando tanto spesso di questa 3-5-2, anche quando abbiamo fatto dei contenuti insieme lui andava a scavare all'interno di questo modulo, cercava di convincermi tra virgolette, cercava di capire anche la mia opinione inerente alla difesa 3, io rimango dell'idea iniziale che avevo sulla difesa 3, e cioè, vabbè, a parte il gusto personale a me non piace particolarmente la difesa 3, la trovo abbastanza limitata, ok, almeno il 3-5-2, il 3-5-2 lo trovo un modulo abbastanza limitato, un modulo in cui si fa una cosa fatta bene, un blocco granitico, quindi tre difensori, cinque centrocampisti, due attaccanti, se sai fare bene quella roba lì, molto bene però, modulo anche limitato, con il quale è difficile esprimere un calcio di altissimo livello. Per quanto riguarda il livello della Serie A, penso che possa andare benissimo, se si esce dai confini nazionali, secondo me, iniziano un po' di problemi con il 3-5-2, ma dato che noi oggi dobbiamo ragionare, no? Non oggi 25-24, 10-22, quindi vigilia, dio e benvica, ma oggi in generale, perché la Champions sarà un vero e proprio miracolo sportivo eventualmente, noi dobbiamo cercare di recuperare punti in campionato e quindi dobbiamo utilizzare un abito che può fare al caso nostro. Io credo che andare domani a giocare nello stadio del Benfica, al Daluz, con il 3-5-2, possa essere una sorta di quasi suicidio, vi dico così perché Benfica gioca con un 4-2-3-1 molto offensivo, in cui sia gli esterni alti, sia quelli bassi spingono tanto. E oggi nel calcio gli esterni sono la chiave di tutto. E infatti Davom diceva che, secondo lui, il 3-5-2 è l'ideale per la Juventus, perché a livello di terzini non abbiamo giocatori che spingono, giocatori che con il primo controllo orientato vanno a portare il pallone in avanti e quindi vanno a predisporre un'azione offensiva. Io sono assolutamente d'accordo con questa sua visione, al 101%, letteralmente davvero anche oltre il 100%, perché è vero che i nostri terzini ad oggi non hanno quella qualità di spinta che è possibile trovare in altre squadre d'Europa. Io ieri sera guardavo il Napoli, che ha vinto 1-0 con la Roma, oppure mi sono guardato anche tante partite del Milan. Olivera e Kvara e Leao insieme a Teo sono quelle corsie che veramente sono strutturate in un certo modo per permettergli il serlo. Lo spiegava anche molto bene Pardo insieme ad Ambrosini. C'era Olivera che stava dentro il campo, stringeva dentro il campo, perché Kvara ama partire largo e quindi cercava di liberare questo spazio. Lo stesso Teo, tante volte in costruzione, viene dentro il campo per cercare di liberare quello spazio a Leao. E queste corsie diventano una cosa importante per i giocatori. Quindi noi potremmo eventualmente, che ne so, con il ritornio di Chiesa, stringere Danilo o stringere Aleksandro per permettere a Chiesa di prendersi quello spazio o per mettere a Di Maria. Io sono d'accordo col discorso dei terzini, però anche qua secondo me si apre una voragine e il mio grande no sulla difesa 3 non è tanto perché sono dell'idea che no, abbiamo dei terzini che spingono, dei terzini moderni, no, non è quello. Anzi, noi lato terzini da anni purtroppo non riusciamo ad aggiornarci, rimaniamo fermi, bloccati ai soliti nomi. L'ultimo grande investimento in quella zona di campo è stato Cancelo che è durato soltanto un anno per poi passare a Danilo che è sì un ottimo giocatore, ma ha tutt'altro livello e tutt'altre caratteristiche rispetto a Cancelo. Due giocatori diversi, anzi, secondo me potrebbero anche sposarsi alla perfezione con Danilo difensore centrale e Cancelo invece esterno. Torniamo a noi però, torniamo a noi perché è vero che gli esterni alti e bassi sono la differenza, però nel 3-5-2 spingi soltanto con due esterni, piuttosto che con i canonici 4 di un 4-3-3 o un 4-2-3-1, un 4-4-2, o di un 3-4-2-1, quindi 3-4-3, perché comunque a meno che non li tieni molto stretti come delle sorte di trequartisti a giocare dentro il campo, però se giochi 3-4-3 hai gli esterni di centrocampo e più gli esterni davanti e quindi capisci che inizia ad esserci una buona spinta sugli esterni. Col 3-5-2 secondo me questa cosa è un po' più contenuta e devi ragionare più di inserimento. E allora volevo ragionare un attimo insieme a voi sugli esterni a disposizione della Juventus, perché Kostic, che da difesa 3, che poi sia 3-4-3 o 3-5-2, non importa, ma Kostic è letteralmente perfetto per quel ruolo lì, quello è il suo ruolo. Quadrado, che è ad oggi il titolare in quella porzione di campo, ma per quanto mi riguarda Quadrado ha finito la sua carriera ad altissimi livelli con continuità, magari ci saranno delle partite in cui farà il disastro, ma altre partite in cui magari farà particolarmente fatica. E quindi per il livello alto della Juventus e con continuità una stagione ad alti livelli di quadrado sempre titolare, secondo me abbiamo finito. Quindi lì sulla destra servirebbe un profilo. Io l'altro giorno vi dicevo, per quanto mi riguarda, si può passare effettivamente alla difesa 3, come si sta facendo, a patto che poi si vada a intervenire sul mercato a gennaio, cercando di comprare un esterno a destra per modificare le gerarchie anche, l'importanza di avere un giocatore al posto di quadrado come titolare con quadrado riserva. E se poi penso alle riserve effettive che potrebbero poi giocare come esterni nel 3-5-2, sia destra che a sinistra, che vi viene in mente a voi? Perché a me viene in mente magari De Sciglio, che può giocare in tutti e due lati e verosimilmente si trova meglio a sinistra e poi basta. Perché Alessandro ormai è utilizzato come braccetto, no? È un terzo di difesa. Anche l'altro giorno Allegri, perché questo video nasce dalla conferenza stampa dell'altro giorno per Empoli, dove Allegri dice, ho sei difensori, negli altri ruoli invece devo cercare di ruotare abbastanza, i giocatori devono stringere i denti e lanfare dei sacrifici. E allora sei difensori li ho contati, e ho detto, vabbè, Borucci, Bremer, Rugani, Gatti e gli altri? E gli altri sono Alessandro e Danilo. Quindi questi sono i sei, perché Allegri stava palesemente ragionando in funzione della difesa 3 e quindi questi sono i sei difensori che possano giocare nella difesa 3. E ci sta, è un ragionamento che file, va liscio. Però anche qua, poi torniamo al discorso ieri di Bonucci, del rinnovo, bla bla bla, vi invito ad andarvi a vedere quel video. Però come esterni siamo limitati. Ed è vero che invece davanti possiamo aggiustarci in un certo modo con gli attaccanti. È vero che a centrocampo, anche con il ritorno di Pogba, io credo che si andrà a insistere con un centrocampo a tre. È vero che il 3-5-2 ti permette di non fare esperimenti strani. Infatti il punto forte di questo discorso è stato con l'Empoli l'altro giorno, che si è difeso e si è attaccato con il 3-5-2 senza bisogno di spostarsi a fare cose strane che in questo momento la Juventus non vengono. Poi un giorno quando verranno si potrà fare e gli hanno chiesto ad Allegri ma quando tornerà a Chiesa nel 3-5-2? Allora qua apriamo un vaso di Pandora. Perché è vero che nel 3-5-2 Pogba è collocabile molto facilmente e quindi lo metti come mezzala tranquillamente ma Chiesa, perché Chiesa Allegri te l'ha detto, io lo vedo l'avanti, lo vedo come punta, nel futuro lo vedo lì. Parola d'ordine, ieri diceva Romeo tranquillità, recupero con calma, senza fretta per il recupero di Chiesa, quindi non aspettiamo ce l'ho convocato Romani o comunque magari convocato ma solo per respirare un po' l'aria di una convocazione, di una partita importante, non per altro, non per farlo giocare. Però io immagino che se la Juve in questo momento gioca col 3-5-2 e ha giocato col Toro, ha giocato con l'Empoli, ribadisco, io domani non ci giocherei in Champions perché in Champions secondo me il livello è diverso, il Benfica è una squadra molto, molto moderna ma anche il 3-5-2 contro questo Milan, questo Napoli, secondo me la Juve potrebbe andare in difficoltà, in serie difficoltà proprio per un discorso di come è impostato il modulo ma queste sono solamente mie impressioni, mie sensazioni, ma domani non giocherei con il 3-5-2, secondo me domani il 3-5-2 potrebbe crearti dei problemi a meno che tu non vada a giocare veramente con una difesa 5 e tu vada a giocare soltanto con una fase offensiva impostata su poche ripartenze ma magari fatte bene e cercare di fare un gol soltanto su calcio piazzato, quindi accettare un po' di umiltà, tra virgolette, e sperare di vincere in quel modo lì perché con 3-5-2 non vedo possibilità perché loro hanno veramente delle ripartenze micidiali quindi se fai un attimo per mostrare il fianco con quel modulo lì secondo me è un po' un disastro, però vediamo per dire l'Inter con il Barcellona è riuscita benissimo a reggere l'urto, è anche vero che loro vengono da quasi 4 anni, 3 anni è un po' di 3-5-2 quindi sicuramente sono un po' più avanti, però Chiesa dove lo metti? Perché lo metti davanti? O non ci gioca nel 3-5-2 o forse no, perché ricorderete l'anno di Pirlo, l'anno in cui Chiesa arrivò effettivamente alla Juventus, Chiesa venne utilizzato come esterno nel 3-5-2 a sinistra con quadrado a destra, era un modulo un po' trasformista, quello di Pirlo, con quadrado che si abbassava sulla linea dei terzi, quindi ad oggi credo che quadrado sia molto più adatto a fare il terzino rispetto all'esterno perché gli manca quello spunto negli ultimi metri, però ovviamente nel 3-5-2 di questo non si può parlare, quindi quadrado potrebbe essere un'ottima riserva. E allora vi butto la provocazione, Chiesa potrebbe fare l'esterno titolare nel 3-5-2 a destra con Costice a sinistra? Allora, per quanto mi riguarda sì, però voglio andare un po' più nel dettaglio. Questa potrebbe essere la formazione, no? Titolari. Quindi Scesni, importa, Sandro, Bremer e Danilo, i tre di difesa perché secondo me sono i tre che in questo momento potrebbero darti più garanzie, Sandro si trova bene lì, Danilo si trova bene lì, Bremer è il suo ruolo, Bonucci in questo momento lo vedo un po' lontano dal poter essere un titolare di questa Juve, anche perché obbligherebbe a spostare, mettere Danilo a sinistra, Bremer a destra, invece i giocatori in questa posizione si trovano più a loro agio. Paredes, Rabiot Pogba, che è il centrocampo che Allegri aveva battezzato come titolare nell'intervista con Mario Sconcerti, dicevamo prima Kostic lì, si trova benissimo, Vlaovic e Di Maria davanti, l'abbiamo già visto, si trovano a loro agio e Di Maria in quella posizione è libero di creare, inventare, anche per vie centrali, l'abbiamo visto l'altro giorno nell'analisi dei gol, i pochi, pochissimi gol, quattro per vie centrali, nati per vie centrali della Juventus, tre volte hanno avuto la giocata di Di Maria e il 3-5-2 con Di Maria in quella posizione gli permette anche di essere un po' più libero dai compiti difensivi e quindi di poter svariare maggiormente. Lui ama partire da destra, in quel caso ci sarebbe pure Chiesa. Diciamo che ragionare con Chiesa e Di Maria che partono da destra, magari Chiesa che prende il fondo e Di Maria che prende partendo da destra per andare per vie centrali, beh, è esattamente quello che dicevamo prima, avere una fascia come può essere Olivera, Vara o Teo e Leao che ti dà la posizione uno stretto, uno largo, capisci che per gli avversari diventa molto complicato. Se aggiungi che dietro c'è Danilo che è molto bloccato, ecco che tutte le cose iniziano a prendere anche un certo senso logico e gli avversari dovrebbero preoccuparsi perché diavolo la Juventus sulla fascia destra c'ha Chiesa Di Maria e quando Nude 2 non gioca entra pure Quadrado. Quindi capite bene che può avere assolutamente un senso logico. Però nel calcio di Allegri io Chiesa in quella posizione devo dire la verità non ce lo vedo, non ce lo vedo per niente perché sarebbe un po' castrarlo in quella posizione lì perché per Allegri sono poi gli attaccanti che fanno tante volte la differenza o tutt'al più dei centrocampisti magari con le qualità e le caratteristiche di Pogba. Quindi questa rosa, questa squadra messa giù così secondo me è perfetta ma Federico Chiesa in quella posizione secondo me per quello che è il 3-5-2 che ci ha sempre mostrato Allegri farebbe un po' fatica. Invece nel 3-5-2 che ci aveva mostrato Pirlo beh Chiesa lì aveva dominato a sinistra dove aveva giocato tutta la stagione e anche a destra dove aveva giocato col Milan a San Siro fece quella doppietta tra l'altro un gol bellissimo con Assis di tacco di Dybala con Chiesa che va a prendersi lo spazio e Di Maria potrebbe benissimo replicare con la giocata con Chiesa che entra a patto che però Allegri decida di utilizzare effettivamente Chiesa in quella posizione e decida di modificare anche un po' quella che è la sua impressione di 3-5-2 e questi potrebbero essere i titolari allora vi dico cerchiamo di dare un'occhiata anche alle riserve beh vi dico che a patto che Chiesa poi effettivamente possa giocare in quella posizione le riserve sono assolutamente a loro agio perché Perini e Pinsoglio sono i due portieri di riserva dicevamo prima Bonucci, Lugani e Gatti sono i tre giocatori di riserva quindi tre brasiliani titolari tre italiani di riserve Locatelli Miretti Meccani e Fagioli quindi ben quattro centrocampisti pronti al subentro De Sciglio che si trova bene a sinistra Quadrado che si trova bene a destra Emilie Kecken oltre a Sule che potrebbe essere una sorta di backup per Di Maria quindi io vado a prendere effettivamente anche i giocatori in panchina per la Juventus anche quelli un po' fuori perché questa è la rosa completa stiamo ragionando in funzione del 3-5-2 che è la rosa completa se Chiesa davvero verrà utilizzato impiegato in quella posizione da Massimiliano Allegri ecco che anche le riserve potrebbero trovare una loro collocazione e potrebbero nascere delle vere e proprie gerarchie nel senso non gioca Bremer gioca Bonucci perché è quel giocatore utilizzabile in quella posizione di campo non gioca Alexandro bene gioca Rugani che è l'unico che può fare il centro-sinistra eventualmente oltre Danilo che però allora magari preferisci Bonucci però devi spostare invece no qua avresti una specializzazione dei giocatori nella loro collocazione naturale non gioca Danilo sul centro-destra allora gioca Gatti inizierebbe anche essere un modo diverso di ragionare sulle riserve senza dover essere sempre obbligati a spostare uno di qua uno a destra uno a sinistra facendo nascere anche tante volte della confusione generale anche nelle rotazioni invece no tu sai che sei il backup di Tizio e quando non gioca Tizio preparati che è il tuo turno secondo me arriveremmo ad avere proprio un piano perfetto poi ribadisco Chiesa per me lì ci può giocare ma non nel 3-5-2 come l'ha pensato Max Allegri come l'abbiamo visto sia con l'Empoli sia col Torino e anche tanti altri anni dove in quella posizione magari ci giocava Lichsteiner infatti ricorderete che quando a Cardiff l'anno di Cardiff che avevamo Dani Alves come terzino destro a un certo punto la Juventus decide di giocare con una sorta di sempre 4-2-3-1 ma che invece quadrado Dani Alves e quindi terzino bloccato Barzagli che poteva essere visto anche come un 3-5-2 con Dani Alves esterno destro ma che aveva molta licenza offensiva ecco dobbiamo ritornare a quella condizione lì e ricorderete poi che Dani Alves in Europa fu determinante soprattutto nella semifinale di andata e di ritorno col Monaco dove fece un gol e tre assist e fu veramente una spina nel fianco della formazione francese e quindi in quel caso allora vedi dopo diventa anche abbastanza fluido il calcio perché può essere visto con un 4-2-3-1 con Barzagli terzino bloccato un 3-5-2 con Dani Alves salto cambia poco e anche in quel caso quadrado era la prima riserva e io sono veramente convinto che quadrado soltanto per una decina un quindicino una ventina di minuti da fresco possa essere un'arma importante ancora per questa Juventus se invece mi dite quadrado deve essere sempre titolare farsene sempre a tutte un po' da terzino un po' da ala un po' esterno nel 3-5-2 allora diventa molto complicato quindi se la Juventus davvero se Massimiliano Allegri è davvero deciso di andare fisso dritto col 3-5-2 ben venga però c'è un problema sugli esterni perché Chiesa e Kostic possono assolutamente farlo e quadrado e Sciglio possono farlo ma non da titolari cerchiamo di dare un input di gerarchie di titolarità e gli altri invece vengono dopo e cerchiamo anche di capire se Federico Chiesa in quella posizione ci può giocare oppure no fatemi sapere se secondo voi intanto domani sarà 3-5-2 ancora una volta immagino di sì dopo le due vittorie consecutive anche se in Europa è contro una squadra come l'Unfica secondo me si fa un po' fatica con quell'impronta e se può essere l'abito definitivo anche con il rientro di Chiesa e Pogba sono curioso di conoscere le vostre impressioni